E' denominata tassa sui servizi indivisibili la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014, un nuovo peso che andrà a gravare ulteriormente sui già scarsi bilanci delle famiglie, riguarda servizi comunali erogati alla collettività come la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. Il capogruppo consigliare di articolo 4 Terenziano Di Stefano chiede con urgenza al presidente del consiglio comunale di Gela di discutere in sede di assise civica delle aliquote della stessa tasi. Se non deliberiamo questo atto entro il 10 di settembre il comune di Gela sarà costretto ad applicare l'aliquota imposta dallo Stato che è l'un per mille per ogni reddita catastale e pagare in un'unica soluzione ovvero entro il 16 di dicembre. E invece se la decisione fosse stata assunta prima? E' proprio quello che sto chiedendo al presidente del consiglio e ai capigruppo di convocare, ci sono i tempi, prima del 10 di settembre questo consiglio comunale. Così abbiamo tutto il tempo per stabilire le aliquote, per stabilire soprattutto le detrazioni per le famiglie meno ambienti, per i commercianti, gli agricoltori e addirittura anche possiamo stabilire una ratizzazione di questa tasi magari in due tranche e non in un'unica soluzione a dicembre. Certo con questa nuova imposta è chiaro che si andrà a creare un'ulteriore pressione fiscale sulle famiglie per cui il suo intento era quello magari di alleggerire questa pressione. Dici bene, noi se non ci muoviamo, a parte che nuovamente tutti invieranno contro il consiglio comunale perché questo è un atto appunto di consiglio comunale e non stabilendo le nuove aliquote e soprattutto non stabilendo le detrazioni appunto come detto poco fa per le famiglie meno ambienti, rischiamo di far pagare tutti i cittadini il massimo e andremo ancora a danneggiare lo stato in cui vivono i nostri concittadini. Quanto questa nuova tassa potrà incidere sul bilancio delle famiglie gelesi? Allora se dovesse rimanere l'un per mille così come è dettato dalla legge nazionale potrebbe incidere per le famiglie ovviamente stiamo parlando circa 100 euro l'anno che appunto lo sappiamo benissimo non sono assolutamente pochi ancora di più potrebbero pagare i commercianti, gli agricoltori ed altre appunto categorie.